ecco il nonno ciao a tutti stiamo aspettando una pizza oggi ne abbiamo 18 aprile 2009 siamo a casa dei nonni perché la blu ha appena finito una partita di pallavoro vinta stravinta poi stasera c'è la Milan c'è Inter Juve forza Inter la guardiamo tutti insieme e abbiamo ordinato la pizza la stiamo aspettando forza Inter e la blu cosa deve dire a Luca? di scriverci ancora e poi? e di farmi sapere tutto quello che fai va bene e la nonna deve dire qualcosa e ciao Vittorio cerca di star bene e tanti auguri a tutti va bene tanti auguri a te dai tanti auguri direi il suo compleanno va bene ciao a tutti saluta ciao